Ciao amici, benvenuti al Vittoria Freak Show. Oggi il video svuota la spesa, vediamo quanto tempo mi dura una spesa fatta alla Lidl, ho speso circa 120 euro. La challenge sta nel farmi bastare questa spesa qui per un mese intero o per più tempo ancora meglio, mangiando da sola, ma in più ci sarà circa per 5 giorni anche il mio compagno che mangia tanto. Quindi sì, è una spesa per una persona mensile con in più degli ospiti, mettiamola così. Come vi ho detto, questa volta ho speso un po' di più perché ho preso delle cosine un pochino più sfiziose, quindi sono andati via circa 120 euro, qua comunque vi metto il prezzo esatto. Per la consegna, mi pare di aver fatto un calcolo, sono andati via circa 7 euro perché era un ordine pesante, perché appunto ho ordinato un botto di roba, ora lo vedrete, e quindi tra le spese di spedizione, c'è il costo della spedizione, il contributo dell'ordine pesante, che anche quelli sono già mi pare 2 o 3 euro in più, e i costi del servizio, alla fine siamo sui 7 barra 8 euro, anche qui poi vi metto il prezzo esatto. Direi di cominciare con i surgelati, non so perché sono così contenta, ma sono felicissima. Io ormai mi accontento di poco. Vi faccio vedere le cose che ho acquistato e poi magari metterò anche qualche clip mostrandovi magari come utilizzo un, due, tre cose, e a fine video vi mostro quanto tempo mi è durata la spesa, tra una spesa e l'altra quanto tempo circa è passato. Cominciamo con i surgelati. E se non si sciogliono. Allora, prima cosa, la pizza. Pacco di pizza, sono tre pizze, margherite semplici, belle, utilissime. Poi, questo ragazzi, che il ragazzo credo che abbia sbagliato a prendere, perché era un altro, ma non importa, che è questo qui, il filetto di merluzzo impanato, io ne avevo preso di un'altra marca, sempre della Lidl ovviamente, ma non mi ricordo, comunque buonissimo. Quello che avevo preso io era, ragazzi, incredibile, meraviglioso, fantastico. Questo spero che sia altrettanto buono. Non prendo mai il pesce, ho detto, boh, ogni tanto lo devo prendere. Fa bene. Poi, le patatine di tasnella, questi qua le faccio in forno, ho scoperto che le adoro alla follia, sono buonissime, quindi sì. Le delizie croccanti in algez di pollo. Buoni, questi non li ho mai presi, li voglio provare. Non li ho mai presi. Croccanti anche in forno, buono. Queste sono cose un po' più sfiziose, come anche queste, che sono le mozzarella, i bocconcini di mozzarella impanati. Questi qua li faccio in forno e sono buonissimi, immagino. Non li ho mai presi, ma sono sicura che sono buonissimi. Ah, le puoi fare non anche in padella direttamente, top. Vado a posare i surgelati. Poi ho preso tutto sto popò di roba, che sarebbero sei confezioni di latte di riso. Io bevo questa bevanda vegetale qui e dovrei aver preso anche sei o cinque, non ricordo, scatole di ceci già cotti, che come sapete, o forse non lo sapete, sono la mia colazione. Cioè nel senso che io mi faccio l'humus per colazione e quindi ne consumo una quantità abnorme. Passiamo ai prodotti da frigo. Allora, filetto di pollo, 650 grammi. Penso che lo utilizzerò per farci tipo il mio farro, i miei pranzi da portare al lavoro. Poi, questi, che non avevo capito fossero così, ma va bene, che sono spiedini di pollo e suino, quindi è un mix praticamente. Non li avevo mai presi anche questi. Io nel caso poi li porziono e li congelo. Anche se c'è il formaggio, sì, vabbè, ma li congelo. E mi faccio le porzioncine, se no, se siete single non c'è un altro modo. Poi ho preso, non lo prendo mai il formaggio, ma ultimamente avevo voglia di formaggio e non ne avevo. Lidl sembra l'unico posto che ce l'ha per un prezzo un po' minore, ma comunque costa a linea di Dio, fa impressione. E ho preso questo pecorico con olive, rucola e peperoncino. Un formaggio X, vedete che ci sono tutte le olivette. Sembra buono. Poi ho preso questo che era in sconto, che sono impanature di pesce con formaggio fuso. Non è senissimo, ma erano tipo 1,50 euro in scadenza. No, perché il 15 febbraio. No, ma erano comunque in sconto. Io questi qua me li mangio, ci faccio uno a bar, due cene, insomma. Li proverò. Tutta roba nuova, questa spesa qui. Poi ho preso un'altra cosa. Se mi seguite su TikTok avete visto che io ho fatto gli involtini di riso con i noodle istantanei, va bene, una roba. Se mi seguite su TikTok mi trovate sempre come vittoria-freak-show, come anche su Instagram. Infatti, se vi va, seguitemi anche lì. E su TikTok adesso facendo vedere anche qualcosina da mangiare, ho fatto questi involtini. Però mancavano di ciccia, di sostanza. Quindi ho preso il formaggio per farli tutti filamentosi. E anche lui, la pancetta di suino. Anche questa qui magari la monoporziono e la congelo. Mamma mia che fame che ho! Buono! Buono! Così diventa tutto crunch in un involtino con la pancetta. Oddio, sei! Tante porcherie stavolta ho preso. Sì, 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 sì. Perché ho preso anche, no, non è una porcheria, diciamo, però è una cosa di lusso. Per me è di lusso. Il salmone norvegese. Questi erano 200 grammi, sono venuti circa 5 euro. Anche lì ormai il salmone è inacquistabile. Ormai tutto è un po' inacquistabile. Tra carne, pesce, salumi, formaggi. In tutto costa tanto. Il triplo, 10 volte tanto. Vabbè, comunque il salmone è sempre costato. È buonissimo questo qua. Sono 200 grammi. E io poi ci faccio delle cosine che vi mostrerò dopo, insomma. Finalmente sono riuscita a prendere una cosa che cercavo da un sacco, non lo trovavo. Almeno non l'avevano messo sul sito online, su Everly. Che sono questo. Ne ho presi due. È il tofu affumicato. Non l'ho mai provato questo. Di solito prendo quello al naturale o alle erbette. Questo non c'era mai. Finalmente sono riuscita ad accaparrarmi due confezioni per provarlo. Vi segnalo questo tofu affumicato che è la fine del mondo. Buonissimo. Sembra una cacciotta affumicata che io ho saltato in padella con un po' di salsa di soia e messo dentro gli involtini di riso saltati in padella alla fine del mondo. Piccolo disclaimer. Io faccio la spesa online perché il mio supermercato, l'amore mio, il mio amatissimo Lidl è troppo lontano rispetto a dove abito e non ho la macchina. Quindi faccio per questo anche una spesa al mese online perché così pago una volta appunto le spedizioni e tutto e anche mi viene più facile da gestire, insomma. E utilizzo l'applicazione Everly. Everly è un'applicazione dove tu scegli il tuo supermercato in base alla zona e può essere Lidl, Coop, Conad, qualsiasi cosa. Lì fai la spesa e uno shopper ti porta la spesa quando decidi, insomma, che lui debba venire da te a consegnartela. Bellissimo servizio, grazie a Dio, meno male che esiste perché dove abito io i supermercati sono minuscoli, piccolissimi, carissimi, non mi piacciono e quindi, insomma, cerco di rispermiare qualcosina andando da Lidl. Che comunque, Lidl, sei nel mio cuore. Se guardi questo video ti prego, ti prego, sponsorizzami, fai qualcosa perché io ti amo e vorrei vivere all'interno dei tuoi supermercati. Grazie. Poi ho preso il salame che voglio mettere sulla pizza e surgelate che avete visto. Poi ho preso, questi pure non li prendo mai, tre vishtaloni, belli grossi, di pollo e tacchino. Dopo lo vedrete, ho preso anche il pane per fare yodog. Sempre lì perché viene il mio ragazzo e noi piace mangiare le schifezze e quindi voglio mangiare yodog, non li faccio da una vita, sono buonissimi. Poi ho preso le mie amate gallette di riso, anche queste sono la mia colazione. Buonissime, le adoro alla follia. Ne ho presi uno, due. Ne ho prese cinque. Mi ricordavo averne prese sei, invece ne ho prese cinque. Magari una è nascosta da qualche parte. Anche queste a me vanno via come niente. Ne mangio a colazione almeno tre barra quattro con appunto l'humus. E anche, vi faccio vedere un'altra cosa che fa parte della mia colazione. Ho preso, mi pare che ne abbia prese anche di queste tipo cinque confezioni. Una cosa del genere. Queste sono le sottilette senza lattosio, che mi piacciono tantissimo. Le metto appunto per la colazione. Non sempre, non lo aggiungo sempre. Faccio galetta di riso. Humus fatto in casa. Sottiletta, un pezzettino di sottiletta. E se mi sveglio all'alba per andare al lavoro, quindi mi sveglio tipo per le sei e mezza, lo so che sono strane ragazzi, ma ci metto sopra anche un ovetto. Questo è tipo la mia ricetta, l'ho inventata io penso, almeno non l'ho mai vista da nessuna parte. È la combo più buona che esista sulla faccia della terra. È la mia cosa tipo preferita diventata in assoluto o quasi. Quindi un tot di queste, cinque circa, confezioni di queste sottilette o una cosa del genere. Il mio amatissimo farro, io questo qua lo faccio tutto e poi con le varie verdure, in caso vi faccio vedere, insomma vi faccio i pranzi per tutte le settimane, perché spesso capita che pranzo al lavoro. Questi sono i miei amatissimi panini per Yodog. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, ho una fame già adesso solo a guardarli, ve lo giuro. Ho trovato le mie scatolette appunto di ceci, tutte quelle insomma che ho preso. Poi il seitan, che io con questo ragazzi non sapevo come utilizzare il seitan. Cioè lo provavo a cucinarlo ma veniva una schifezza. Poi ho trovato una ricetta, mi pare che sia di Begnarok, una cosa del genere, che lei le saltava tipo scaloppine con il vino, mettendo anche poi, imparandole nella farina. Mamma mia ragazzi, vi giuro è buonissimo, mamma mia. Fatemi sapere se vi interessano le ricette, non credo, questo è un canale un po' confuso, mi rendo conto, parliamo di tutto, però se vi dovesse interessare ve lo mostro. Insomma da qualche parte, buono buono. Questi che sono i formaggini, grande scoperta per me del periodo, mi faccio la pasta col formaggino. Cioè io non mangiavo la pasta col formaggino, l'ho scoperta, grande rivoluzione, la sera torno a casa alle nove e mezza di sera se lavoro. Cioè non mi metto a cucinare se non mangio alle dieci e mezza. Io mi preparo la mia zuppetta che poi congelo, poi in caso lo vedrete, e la sera quando non ho voglia mi scaldo la pastina, ci metto la mia zuppetta, un formaggino e mi sono fatta la cena più buona e sfiziosa di questo mondo. Adoro. Oppure anche col dado, senza dover fare la zuppa, insomma, buonissimo. Poi passiamo al reparto verdura, circa, sì. Poi dopo ci saranno anche altre schifezze. Due melanzane, sempre credo che le metterò nel farro, poi vediamo. Ah! Cipolle bianche. Patate. Le patate, non so se è una mia impressione, ma ho lì, mi pare che siano molto più costose adesso, che costino molto di più, tipo queste non so se le ho pagate, 3 euro, la roba, 2,50 euro. Per carità, eh, sono, sì, un chilo e mezzo di patate. Boh, non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque ho notato che costicchiano. Questa al forno, buonissime, con la cipolla rigorosamente. Poi, il mio amatissimo cavolo è l'amore della mia vita. Il cavolo, ragazzi, è una delle verdure, penso, più buone che ci sia. Non sembra, lo so che magari dici come il cavolo che schifano. Il cavolo, ragazzi, è buonissimo. Lo fa in tutti i modi ed è una delle verdure più saporite che io abbia mai mangiato. Io ci faccio le zuppe, i ripieni per il ghiozza di carne, ci faccio come contorno. Poi le zuppe vengono una bomba, ma è buonissimo. Il cavolo, integratelo perché fa benissimo la vostra alimentazione. È uno dei, veramente, gli alimenti più ricchi vegetali che ci sia ed è buonissimo in tutti i modi. Si può mangiare, tra l'altro, anche crudo. Caratteristica da non sottovalutare. Io addirittura in estate me lo faccio a insalata, lo taglio sottile, 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 con la cipollina. Poi ci metti magari la salsa, lo yogurt. Buonissimo. Qui stavo preparando la zuppa, infatti ho tagliato 4 carote. Ho aggiunto mezzo cavolo e la cipolla e poi ho frullato tutto una volta cotto. In totale sono venute 11 porzioni di zuppa che poi io ho messo nei sacchetti e congelato. Li mangio con la pastina, prima cuocio la pastina a parte e poi la metto nella zuppa calda aggiungendo il formaggino. Poi ho preso 6 zucchine, anche queste appunto mi serviranno per fare le mie porzioni di farro. Ho preparato il farro con le zucchine, le melanzane e il pollo. Sono venute 8 porzioni che mi basteranno per i pranzi che faccio sia al lavoro che a casa. La verdura non è finita, voi sapete che io sono una grande mangiatrice di tutto ma anche di verdura. Quindi ne ho presa un bel po', me la faccio durare tutto il mese, ripeto. Una palla di lattuga, non mi veniva il termine. Non sono una fan di questa roba, ve lo dico. Cioè purtroppo l'unica cosa che non riesco tanto, non mi piace tantissimo è la lattuga così, da fare così. Non so perché purtroppo mi piace il lattugino o la rucola o la valeriana, però questa dura di più e quindi magari riesco a giostrarmela meglio. Poi avevo fatto tempo fa una ricetta che volevo rifare che era il tofu, faccio tipo l'involtino con la foglia di insalata, un pezzettino di cipolla, il tofu cotto ovviamente in un certo modo, la salsa allo yogurt. Lo fai in voltino e lo mangi, insomma diventa molto più sfizioso mangiandolo così in voltino. Se invece lo andiamo a mangiare, cioè io lo vado a mangiare solo tagliato così, a insalata, sempre condito, non lo so, non mi... c'è qualcosa che mi turba, non mi so dire cosa. Ah, questo l'ho preso anche per fare sempre gli involtini primavera, però i fresh rolls, quindi con i involtini crudi. Poi mi sono fatta un altro regalo, ho preso una spesa veramente piena di regali. Questo sembrerà una banalità ma per me è meraviglioso, è una retina di avocado. Mi pare che anche questi erano in offerta, li ho pagati un po', però sono tanti. E ma questa, raga, a me l'avocado mi rende felice. Col salmone voglio fare, col salmone che avete visto prima, farò le bruschettine con l'avocado e il salmone e io tipo, raga, volo altissimo. Cioè, è la mia cosa preferita al mondo. Ci faccio magari anche il sushi perché faccio il sushi in casa, cioè è buonissimo. Ogni volta non lo prendo mai, questa è una retina, insomma, spero di riuscire a mangiarli prima che vadano a male. Ma sono duri come le rocce, per cui non dovrebbe essere un problema. Un chilo di carote. Le carote, anche lì, super versate, li faccio in zuppa, li faccio in padella. Cotte semplicemente con un filo di burro, buonissime, semplicissime. Oppure le faccio al forno con la paprika e la salsa di soia e diventa tipo una patatina, una zucca. Molto più simile alla zucca, diventa, insomma, le carote, per me è un must save. Costano niente e sono buonissime. E poi questa bambina, che mi pare di aver letto sul sito, che era tipo due chili. Sono pazza, lo so. Questa è una super zucca che farò una parte, voglio farci degli hamburger o delle polpette vegetali, che poi anche lì congelo, e un'altra me la faccio sempre magari con dita, con il farro. Vediamo, vediamo. Ho scoperto un trucco che non è da sottovalutare, che mi ha svoltato la vita. Se prendete la zucca e la mettete direttamente in forno, senza togliere la buccia, lei si cuoce lo stesso, non ci impiega neanche così tanto, perché siamo sempre sui, mi pare, 40 minuti, un'oretta, ora non mi ricordo, dipende da come impostate il forno e vado molto a occhio. Però poi la pelle si sfila da sola, la tagliate, togliete i semi e avete la zucca pronta. Io ogni volta, mi facevo malissimo, ogni volta che cercavo di tagliarla, la sbucciavo sempre, ma vi giuro, da cruda, un incubo. Fatelo da cotto perché è meraviglia. La semplicità. La zucca l'ho usata per fare delle polpettine vegetali, avevo visto la ricetta sempre su YouTube, con zucca e ceci. Pan grattato e parmigiano, io ho utilizzato la ricotta salata che avevo preso giù in Sicilia. Sono venuti 14 hamburger che poi ho posizionato sulla carta forno e ritagliato per poterli sovrapporre e congelare. Ho cotto l'hamburger, mi è venuto una schifezza, si è spappolato tutto perché non ho seguito le dosi della ricetta e quindi è mollo, come sempre, ogni volta che faccio gli hamburger vegetali. Perciò ho preso, l'ho tagliato, diciamo, anche se si spappolava tutto, ho messo il lattuglino, la foglia di lattuglino, la cipolla fresca, una salsa allo yogurt con l'aceto e i semi di sesamo sopra. E queste, vabbè, sono delle patate al forno che mi erano avanzate, che avevo congelato. Ho questa ricetta, nella sua semplicità mi fa volare, li trovo buonissimi. Poi, visto che erano così tanto molli gli hamburger, ho deciso di sperimentare un'altra ricetta che avevo visto su TikTok, che consiste nel fare delle piadine o prendere delle piadine già fatte, io le ho fatte a mano, tagliare lo scalogno, mettere lo scalognetto a soffriggere e poi spiaccicare l'hamburger vegetale sulla piadina e cuocerla in padella. Ho letteralmente spiaccicato lo scalogno sull'hamburger schiacciato nella piadina e poi, con una mossa agile, ho spiaccicato tutto nella padella, mettendo poi un piatto sopra e girandolo nella padella a modi frittata. Ho aggiunto questo formaggio di capra spalmabile che vi consiglio, è buonissimo e mi sono gustata questa strana piadina con delle verdure surgelate d'accompagnamento. Devo dire, non il top, però per salvare il disastro che avevo fatto con gli hamburger, alla fine ci sta. Siamo arrivati al sacchetto dall'ammare, viene anche il mio ragazzo, lui è un grande goloso, perciò io ho preso i nachos di sale, cioè i nachos normali, anche questi se poi voglio fare il guacamole vengono una meraviglia. Lui è un grande appassionato di nachos. Poi sempre per il mio compagno, non mi ricordavo di aver preso questi, ma va bene, io ho preso i muesli croccanti al cioccolato, a lui piacciono tanto, si fa il tazzone di latte, ma in caso, vabbè, anch'io non disdegno. Così ce li ho e li tengo lì. Ah sì, le amate stelline, come vi dicevo, c'era la promozione su prenderne due appunto. Quindi due pacchi di stelline, la pasta da fare come pastina col formaggino, buonissimi. Il pane, che utilizzerò questo qua con il pane multicereali, ok, questo qua lo trovo molto buono, mi piace. A me il pane al nord Italia sinceramente non piace, devo dire la verità. Perciò è inutile che prendo le pagnotte classiche, perché prendo questo qua, lo mangio comunque raramente il pane, però con questo vengono delle bruschette con il salmone, burro e salmone, oppure l'avocado e il salmone. Incredibili, buonissime, le scottate in padella con un filo d'olio, una goduria. La mia cosa preferita, un'altra delle mie cose preferite al mondo sono le bruschette. In estate vivo tipo solo di quelle. Poi queste patatine, che sono quelle tra le mie preferite, il gusto paprika della Lidl, io vorrei farvi vedere il ridicolo. Cioè guardate la busta, quanto è grande, guardate dove arrivano le patatine. Cioè ma a questo punto fate confezioni che siano molto più piccole, perché sprecare tutta questa plastica? Per fare che cosa? Gesù Cristo. Cioè vi pare normale? Non mi piace questa cosa. Zero. Poi ho preso la salsa rosa, questa qua io l'adoro, la salsa rosa, con le patatine ci sta da Dio e con tante altre cose. Poi ho preso questi qua che li porto al lavoro. Noi al lavoro abbiamo un cassetto delle meraviglie dove teniamo tutte le caramelle e i cioccolatini, quindi ogni totto li fornisco. Sono tipo le... Non mi ricordo come si chiamano le Kinder, quelle sottili, di cioccolato al latte dentro. Il cioccolato bianco dentro, forse si vede meglio qua, cioccolato bianco dentro e fuori cioccolato normale. Vabbè, l'avete presente? Insomma la copia di quelli della Kinder. Sei uova, adoro le uova, amo le uova, faccio le uova in tutti i modi, buone le uova. Questo qui anche se ho la lavastoviglie, lo utilizziamo perché capita di dover lavare qualcosa a mano. Questo qui 99 centesimi è tipo il miglior lavapiatti sulla faccia della terra per me. Costa 99 centesimi ed è un litro e mezzo, lo usavo anche quando non avevo la lavastoviglie e continuerò a comprarlo penso fino alla fine dei miei giorni, o almeno finché continuerà a costare 99 centesimi. Poi la carta culo, come piace chiamarla a me, cioè la carta igienica, è inutile che io vi dica come la utilizzo, giusto? E poi ho preso, ma non ve lo faccio vedere ovviamente per comodità, tre casse d'acqua naturale da due litri per bottiglia, che sono le mie preferite di Lidl appunto. Con tre casse d'acqua, quindi sono in totale 18 bottiglie d'acqua da due litri, quindi il doppio di una cassa normale, quindi sì. Quanto fa 18 più 18 non lo so, ma comunque va bene, avete capito? Ho preso tanta acqua che per me è fondamentale, c'è il motivo anche per cui faccio la spesa da Everly o la spesa online in generale, proprio perché essendo che non ho la macchina, essendo che l'acqua di Padova è estremamente cattiva, non è buona, io prima in Friuli la bevevo l'acqua del rubinetto, ho sempre bevuto l'acqua del rubinetto, qui a Padova mi è stato detto non bere l'acqua del rubinetto perché non è buona ma si sente infatti, e quindi devo acquistarla per forza, solo che essendo che non ho la macchina, cioè non posso andare in bici ogni giorno a prendermi due bottiglie d'acqua, poi io bevo tantissimo, quindi faccio l'ordine pesante una volta al mese, mi faccio portare tre casse d'acqua, che dici cavolo è tantissimo per una persona, no io bevo tanto tanto e poi insomma sì, è giusto avere l'acqua in casa, insomma questo è uno dei motivi anche per cui faccio la spesa online. E basta, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia insomma utile vedere come nel 2024 quanto si spende, cosa compra una persona che vive da sola, che ha magari ogni tanto qualche ospite ma che principalmente vive da sola. Ho stavolta sforato il budget perché ho speso 120 euro l'ultima volta, l'ultimo video mi pare che fossero 100, 110, però come avete visto ho preso anche qualcosina di più sfizioso e costoso come appunto il salmone, quindi insomma anche per questo ho speso un attimo di più, anche perché c'era il mio compagno, quindi ho detto po', tanto vale, prendo due cosine in più perché poi se no vado negli altri supermercati per prendere le cose, per mangiare col mio compagno io spendo magari 30 euro in più a parte, quindi ho detto tanto vale che faccio tutto da lì, dell'amore mio che almeno mi fa, mi è comodo insomma. Scusate il fermo immagine raccapricciante, comunque è arrivato il momento dei conti, ho fatto la spesa il 27 gennaio e quella successiva il primo di marzo, quindi la spesa è durata 35 giorni. Spero che questo video vi sia piaciuto, io mi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella delle notifiche così non vi perdete i miei prossimi video. Io vi invito anche a iscrivervi su Instagram e TikTok, mi trovate sempre come Vittoria Freak Show, li faccio contenuti di varia natura. Allora su Instagram mandami un messaggio vocale con la tua esperienza paranormale o con la tua esperienza lavorativa da incubo per appunto continuare la mia rubrica sul mio canale YouTube che è appunto le vostre esperienze paranormali o il vostro, o com'era? Le vostre esperienze lavorative da incubo. E così insomma anche poi se mettete i like magari a questi video, magari lasciate anche qua sotto un commentino, io capisco che i miei video mi piacciono e continuo a farmi degli altri. Ogni tanto mi pare di parlare un po' da sola. Sono tre anni che sono su questa piattaforma e su tutte le altre ed è sì come parlare da soli, è molto bene. Io mi faccio un sacco di compagnia, assolutamente, però se magari vi fate sentire anche qua sotto sarebbe bello. Dai dai, mandatemi le vostre esperienze così facciamo una nuova puntata. Ci vediamo al prossimo video e io vi saluto. Ciao! Ciao!